In questo momento noi stiamo facendo tutto alla luce del sole con una ratifica dei cittadini iscritti al portale e soprattutto su un tema specifico che è legittimato dalla rete. Io voglio precisare, come diceva Toninelli stamattina, questa non è un'apertura di credito al governo, è un'apertura di merito e soprattutto non è un accordo di governo, questa è una richiesta per dialogare su un determinato provvedimento. Io spero che sebbene ci siano delle sfumature dovute alla semplificazione mediatica che spesso si fa, io spero che questo sia chiaro, noi vogliamo portare a casa la legge elettorale e vogliamo capire, siamo curiosi di capire perché questa non va bene e come può essere migliorata. Se siamo disposti o se sono disposti appunto a renderla alternativa ad un Italico che in questo momento è stato portato in auro il 28 gennaio, adesso è fermo, è stata addirittura subordinata alle riforme e che ha evidenti profili di costituzionalità come abbiamo scritto nella lettera. Se poi riusciamo addirittura, e questo è il nostro obiettivo, a portare nell'ordinamento giuridico italiano una legge elettorale con le preferenze, finalmente abbiamo ridato un grande potere ai cittadini italiani che gli è stato tolto dal 2005-2006 con la legge Calderoni, quindi credo che questo sia chiaro. Grazie.